I pazienti trentini con esiti da poliomelite potranno contare ora su Villa Regina per la riabilitazione estensiva in provincia di Trento. Oggi presso la struttura di Arco si è tenuta una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l'assessore provinciale alla salute Luca Zeni, il sindaco di Arco Alessandro Betta, il direttore dell'area riabilitazione della PSS Eugenio Gabardi e il vicepresidente della Casa di Cura Mario Claudio Cariello. La conferma del ruolo della Casa di Cura Regina, che da sempre si occupa di lungo degenza anche per la riabilitazione estensiva di questo tipo di pazienti, è frutto delle deliberazioni approvate nei giorni scorsi dalla Giunta Provinciale che hanno sancito di fatto la riforma del comparto della riabilitazione provinciale. Alla Casa di Cura Regina viene affidato un mandato per accogliere i pazienti trentini con poliomelite che fino ad oggi dovevano necessariamente rivolgersi alla struttura di Malcesine. A questo scopo è stato assegnato alla struttura di Arco un budget ulteriore di 220 mila euro. Villa Regina è un mandato molto ampio perché si occupa di riabilitazione in senso lato con persone anche con una non autosufficienza importante, altre invece è una riabilitazione più estensiva. Oggi ampliamo il budget con 220 mila euro dedicati alla poliomelite in modo da dare una risposta ai pazienti trentini e non soltanto che hanno delle problematiche legate alla poliomelite e quindi una risposta complessiva. Oltre a questo Villa Regina si sta muovendo in maniera molto intelligente su settori come quello dell'assistenza agli anziani e la possibilità anche di appartamenti per anziani autosufficienti dando una copertura a 360 gradi a una serie di bisogni che oggi sono in crescita. Con questa delibera si dà spazio e sviluppo alla riabilitazione e alle case di cura di Arco che possono tornare a crescere? Sì, la zona di Arco ha una vocazione che ha una vocazione al benessere, alla salute e in particolare alla riabilitazione. Ci sono tre case di cura importanti come Eremo, San Pancrazio e Villa Regina. Rispetto a quanto oggi in essere con l'ultima delibera abbiamo aumentato il budget a tutte e tre le case di riposo, circa un milione ad Eremo, 500 mila a San Pancrazio e 220 mila euro a Villa Regina con delle specificità dei mandati, in particolare a Villa Regina sulla poliomelite, mentre ad Eremo e San Pancrazio abbiamo aumentato il budget con l'obiettivo di intercettare quel milione e novecentomila euro di costi che derivano da pazienti trentini che si rivolgono fuori provincia per la riabilitazione. Qui la capacità imprenditoriale, relazionale di queste case di cura private che sanno muoversi molto bene può portare a un recupero per noi di mobilità, per loro di attività e quindi di sviluppo della loro attività d'impresa molto interessante e importante e che può portare un indotto a tutto l'Alto Garda e uno sviluppo di queste realtà. Cosa risponde l'assessore alle opposizioni che hanno criticato questa delibera dicendo che andrà a tagliare quelli che saranno i fondi per le case di cura? Purtroppo in questa zona siamo abituati ad opposizioni che cercano ogni pretesto per fare polemica strumentale. In questo caso è addirittura paradossale che a fronte di un aumento di budget anche molto importante si attacchi in questo modo. Lo si evidenzia la strumentalità anche dalle contraddittorietà. Abbiamo i 5 Stelle che a livello provinciale hanno detto che con questa delibera privatizziamo la sanità perché diamo più soldi ai privati e a livello locale dicono esattamente l'opposto, quindi dovranno prima di tutto mettersi d'accordo tra loro e poi potranno esprimere anche una posizione. La realtà è data dai fatti, abbiamo condiviso dei percorsi e oggi a Villa Regina è stata data testimonianza della soddisfazione, dell'apprezzamento a fronte di una progettualità e la serietà della struttura e con le altre abbiamo condiviso questa opportunità di aumentare i budget legandolo all'attrattività della mobilità e quindi diamo una possibilità di sviluppo in un'area molto interessante all'interno però di una regia che deve essere in mano al pubblico con una funzione anche sulla riabilitazione dove si riconosce il ruolo ai privati convenzionati ma si mantiene una regia in capo all'azienda sanitaria e alla provincia. In questi ultimi dieci anni Casa di Cura Regina è cambiata, è migliorata e oggi grazie a questa convenzione, a questa delibera della provincia si pone con grande sviluppo. Sì, Casa di Cura Regina si è sempre occupata di lungodigenza e riabilitazione estensiva. Casa di Cura dispone di 164 posti letto di cui attualmente 147 accreditati e circa il 35% dei pazienti viene dalla provincia autonoma di Trento direttamente inviati dagli ospedali dai reparti di medicina, gerateria, ortopedia mentre i restanti 65% dei pazienti provengono da fuori regione. Quindi siamo comunque una realtà importante in termini di attrattiva dei pazienti che vengono da fuori regione e contribuiamo in maniera positiva ad abbassare il saldo di mobilità negativo della provincia autonoma di Trento. Questo siamo attrattivi perché? Perché abbiamo fatto comunque ingenti investimenti sia da un punto di vista sanitario, personale altamente qualificato ma anche importanti investimenti strutturali. Abbiamo una fisioterapia con personale qualificato, una piscina, una vasca idroterapeutica dove si fa attività motoria e siamo praticamente l'unica realtà convenzionata per la lungodigenza in Italia che ha la piscina, che dà la piscina ai nostri pazienti. Il nostro obiettivo è quello di dare più servizi per permettere ai nostri pazienti di trovare l'autosufficienza in maniera più rapida e quindi posticipare il più a lungo possibile il grado di non autosufficienza. Poi finita tutta la ristrutturazione della casa di cura abbiamo creato un ampliamento attivo alla struttura sanitaria che dispone di circa 36 appartamenti per anziani autosufficienti che possono usufruire dei servizi della casa di cura dotati di elevati standard alberghieri tutti con domotica, la possibilità di chiamare l'infermiere, assistenza medica e poi la possibilità di utilizzare la piscina, la fisioterapia. Quindi è un investimento che vede a uno sguardo futuro, a un bisogno, a una necessità più che futura anche presente a seguito del continuo invecchiamento della popolazione e questa struttura può avere delle sinergie importanti tra le due realtà.